Presentato il nuovo main sponsor della Pallacanestro Teate, si tratta di Esa Energie con Walter Serpellini che ha espresso ai nostri microfoni e in conferenza tutta la sua soddisfazione. Sì, penso che Esa, sapete che non è nuova iniziativa di questo genere, abbiamo sponsorizzato tante volte squadre di calcio, di basket, di quasi tutti gli sport. Questo rientra nell'ottica aziendale dove pensiamo che sia assolutamente doveroso quando si fa impresa in un determinato territorio poter dover assolutamente appoggiare in qualche maniera le iniziative sia sportive che culturali. Perché il basket con Marchesani che ha detto esplicitamente ai nostri microfoni vogliamo la Serie A? Appunto perché penso che sia un progetto assolutamente di rilievo, un progetto importante e quindi c'è stata proposta questa iniziativa e l'abbiamo accolta con tanto entusiasmo e calore. Quale deve essere l'obiettivo al di là della promozione sul campo? Sicuramente, allora la stagione scorsa è stata una stagione molto importante a Chieti per quanto riguarda il basket. Si è rivitalizzato il palazzetto, abbiamo notato tanto entusiasmo. Quest'anno penso che sia la cosa più importante continuare in quella direzione, quindi entusiasmo al palazzetto, tanta gente, belle partite. Bocca al lupo. Crepi.